Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, andiamo a vedere qual è la situazione della viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove si registrano a causa di un veicolo in avaria a 3 km di coda tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Rallentamenti invece a causa del traffico intenso tra il Vivio con la variante del Valico e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipilitra Scandicci e l'allacciamento Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Rimaniamo in Fpili, si ricorda che fino alle 20 di stasera per lavori di pavimentazione rimarrà chiuso il tratto tra Livorno e Darsena Toscana S in direzione Firenze. Chiudiamo con la viabilità della città di Firenze e disagia al traffico a causa di un ostacolo in carreggiata con conseguente restringimento all'ingresso di via Ponte alle Mosse provenendo da Piazza Puccini. Per il momento è tutto, muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!